Nella mattidata di martedì 14 gennaio, nel corso dell'operazione Shy Clock, militari della Guardia di Finanza di Torino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ivrea, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di una coppia di caluso, dedita all'usura, provvedendo al sequestro dell'intero patrimonio accumulato. Arrestato un cinquantenne, mentre la convivente è stata colpita dal divieto di avvicinarsi alle vittime di usura. Le indagini, condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, sono state avviate nel 2017, all'esito di un'autonoma attività informativa rafforzata dallo sviluppo di una segnalazione di operazioni sospette, ai fini della normativa antiriciclaggio, che permetteva fin da subito di individuare alcune vittime della coppia, tutte del canavese. Le vittime erano pensionati, che non riuscivano a pagare l'affitto mensile, piccoli imprenditori in difficoltà, familiari di soggetti in precarie condizioni economiche, che avevano richiesto la coppia a prestiti nell'ordine di poche migliaia di euro. Ricevuto il denaro, le vittime, che si sono trovate costrette a dover restituire somme ingenti, con tassi d'usura anche del 300% annuo, sono risultate ancora indebitate per la maggior parte, mentre la coppia si assicurava così una costante e illecita fonte di profitto. I prestiti venivano effettuati in contanti e il denaro veniva scambiato sia a domicilio, sia in luoghi aperti di passaggio, fuori da esercizi pubblici e anche nei prestiti caselli autostradali. Oltre che era l'uso, la coppia operava a Chivasso, Borgo Arturinese, Mazze, Val della Torre, Verlengo, Vinove e Londissone. L'uomo si faceva spesso accompagnare agli incontri dalla compagna, operatrice di una casa di riposo di brandizzo, che lo supportava costantemente nella conduzione degli affari illegali. La coppia è risultata particolarmente accorta nel condurre le proprie attività illecite, ricorrendo a sotterfuggi, sia per sottrarsi alle indagini, sia per incettimare apparentemente il patrimonio a disposizione, del tutto ingiustificato rispetto alle indagini.